Buonasera, buonasera a voi. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è praticamente un invito, un invito a votare. Andate sulla piattaforma dei gilet arancioni e votate, votate, votate per mandare a casa questo governo, davvero. Invitate i vostri amici, parlatene con i vostri familiari, votate, votate, votate. Io farò sempre, adesso e da adesso in poi, vi metterò nei commenti il link per poter facilmente andare a votare. Ma votate perché è importante e coloro che avranno la possibilità andate alla manifestazione nella vostra regione perché si svolgerà nel capoluogo della vostra regione. Chi avesse bisogno di informazioni vada sul sito dei gilet arancioni, partecipate e votate, votate e partecipate. È troppo importante, è davvero una delle ultime occasioni. Ripeto, troverete appena vi guarderete questo video, troverete sotto nei commenti subito il link per poter votare. Ora, io devo fare la smentita della smentita, si può dire, perché chi non mi ha seguito nelle ultime 48 ore io ho avuto modo di parlare di questa intercettazione dove ci sono due magistrati che praticamente sono a colloquio. Di questa registrazione ha parlato Matteo Salvini ieri sera. Io avevo il dubbio che uno dei due magistrati fosse o no Palamara e inizialmente l'avevo dato quasi per scontato e invece poi mi sono venuti dei dubbi, ho voluto approfondire la questione, ma vi posso adesso confermare al 100% che si tratta proprio di Palamara, del giudice Palamara, che dice testualmente, lo so Salvini per quanto riguarda la Gregoretti ha ragione, ma in questo momento dobbiamo attaccarlo. E chiude questa sua bellissima uscita dicendo al collega, guarda sono qui all'aeroporto, c'è anche quella merda di Salvini. Questo è l'intervento da parte di questo alto magistrato che dovrebbe garantire la sua imparzialità nei suoi giudizi. Ora noi sappiamo invece che così da tanto tempo non è perché ci sono le correnti, c'è la magistratura di sinistra e quindi è tutt'altro che imparziale. Oggi c'è stato un intervento da parte del procuratore di Catania che dovrà appunto giudicare Matteo Salvini nel processo che si svolgerà a luglio e ha dichiarato a mezzo stampa che Salvini deve stare tranquillo perché le cose saranno fatte nella maniera giusta. Ora io scusate, io mi sono chiesto ma è necessario che un procuratore a mezzo stampa debba intervenire e fare una simile affermazione? Avere un giudizio giusto secondo la legge non è una cosa che dovrebbe essere scontata per tutti i cittadini di questo paese e non solo? Cioè il fatto che lui si senta in dovere di dire una cosa di questo tipo qui a me fa venire il sospetto che in realtà ormai non siamo più in uno stato di diritto nel nostro paese. Tra l'altro oggi è intervenuto anche un ex giudice, il giudice nordio di Venezia che non si è assolutamente scandalizzato di fronte a questa situazione, anzi ha sottolineato, io ve lo posso confermare perché seguo da molto tempo questo giudice che stimo, che lui era perfettamente al corrente di come stavano le cose, che esistono le correnti, che è un vero male per quanto riguarda la giustizia italiana, cosa che lui ha sempre sottolineato. Ha sottolineato poi un'altra cosa che sarebbe necessario nelle alte cariche di questo paese per quanto riguarda la giustizia come ad esempio il CSM farlo per sorteggio. Non ultimo lui poi è intervenuto dicendo che lui non è d'accordo nel divulgare le intercettazioni perché spesso quello che viene detto può essere distorto. Diciamo che io sono in parte d'accordo con il giudice nordio, sicuramente corrisponde a verità in moltissime circostanze. Però scusate, in questa circostanza, quando un giudice come Palamara definisce Salvini una merda, io credo che non ci sono interpretazioni. È chiaro che lui ha un qualcosa, un astio di carattere personale nei confronti di Matteo Salvini. E siccome i due non si sono mai incontrati e quindi non ci può essere stato uno screzzo da parte dell'uno o dell'altro, ma è semplicemente un fatto politico, un'antipatia di natura politica che al signor Palamara non va a genio quelle che sono le idee politiche di Matteo Salvini e ha cercato con tutti i mezzi in qualche modo di discreditarlo. Questa è la realtà. Ora, veniamo anche al titolo di questo video, sempre rimanendo in tema però, no? Matteo Salvini dovrà andare a processo tra qualche mese per aver tenuto in ostaggio quattro giorni un centinaia di migranti. Tra l'altro ricordo sempre che lui l'ha fatto, uno sincerandosi delle condizioni a bordo perché era stata mandata una motovedetta con dei sanitari che avevano verificato le condizioni e una parte di loro, 13 per la precisione, erano stati fatti scendere. In generale ha verificato le condizioni a bordo cercando chiaramente di garantire viveri e quant'altro. Quindi non erano in pericolo questi migranti. Semplicemente Matteo Salvini stava aspettando la risposta dell'Unione Europea e degli altri paesi membri dell'Unione per quanto riguarda la ridistribuzione di questi migranti. Sta di fatto che quindi per aver tenuto quattro giorni un centinaio di migranti così in ostaggio, come dice la procura di Catania, questa è l'accusa, lui dovrà andare a processo. Mentre il signor Conte che ha tenuto in ostaggio non un centinaia di persone, 60 milioni, 60 milioni di italiani e non per quattro giorni ma per 90 giorni, invece Giuseppe Conte è ancora libero di fare i suoi decreti, è libero di procrastinare al 31 di dicembre l'emergenza, è libero di fare il bello e il cattivo tempo senza che nessuno ancora sia intervenuto. Ci sono alti avvocati che hanno fatto delle denunce per quanto riguarda epidemia colposa come Taormina, come Polacco, come Sinagra e tanti altri. Ci sono poi anche politici, ci sono uomini importanti come l'alto commissario per i diritti umani che è molto preoccupato per la mancanza di libertà nel nostro paese e che definisce un atto grave quello che sta succedendo in Italia. Insomma ci sono autorevoli interventi che ci dicono che quello che sta succedendo in Italia e gli interventi di Conte sono assolutamente anche contro la Costituzione, ce l'ha detto ieri in un'intervista Paolo Maddalena, giudice emerito della Corte Costituzionale, quindi vedete sempre più persone di alto livello dello Stato italiano e non solo che dicono questa cosa. Vedremo come andrà a finire, se ancora una volta i poteri forti avranno il sopravvento oppure invece questo non succederà. Io voglio chiudere questo video con un'altra considerazione. Io continuo ancora a sentire parlare le persone che hanno dubbi se scendere in manifestazione o no perché così dicono sì però Pappalardo ha fatto queste cose nei confronti di Salvini però Pappalardo in fondo vuole mandare a casa Salvini però chissà Pappalardo anche lui così ha la sua storia. Cioè continuano a mettere in dubbio il fatto che sia necessario in questo momento scendere in piazza perché l'unica strada guardate per mandare a casa Conte questo dittatore perché ormai diciamo ce lo si tratta di un dittatore l'unico che in questo momento lo può fare è Antonio Pappalardo. Tra l'altro guardate io ve lo dico anche per quelli che insinuano qualcosa in Pappalardo che io vi dico una cosa io mi sono fatto l'idea a 62 anni che se una persona come il generale Pappalardo che non è un mese che sta andando contro i poteri forti ma vi ricordate già molti molti mesi fa aveva cercato di far sì che quello che secondo lui è un presidente abusivo cioè Mattarella fosse arrestato. Quindi diciamo che è al centro di questo di questa diatriba con le istituzioni da molto tempo e vi garantisco se ci fosse una sola macchia nella carriera di ultra 40 anni da parte del generale Pappalardo sarebbe già uscita da molto tempo ed è esattamente questo che dà fastidio perché i poteri forti in Italia non si possano attaccare a nulla per screditare il generale Antonio Pappalardo e questa è la sua forza e noi lo dobbiamo seguire è l'ultima possibilità venite in piazza con noi il 30 maggio in tutti i capoluoghi di regione e poi dal 2 di giugno a Roma tra l'altro vi ho annunciato stamane nei prossimi giorni ci saranno delle grandi e importanti novità con questo io vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani